Ciao ragazzi, come state? Oggi non siamo in montagna o a giocare a calcio, ma siamo nella cuisine della nostra casa per cucinare muffin alle zucchine. Quindi noi ci immaginiamo in chiacchiere e cominciamo a raggiungere 3 zucchine. Adesso le zucchine raccioggiate e le metto dentro un po' lino per far spogliare l'acqua. Ci vorrà circa un'oretta. Adesso io copro le zucchine con un piatto e metto sopra un peso per evitare l'acqua a scendere. Ora io devo mischiare 3 uova con lo zucchero e lo zucchero vanigliato. Quindi adesso, adesso l'uovo. Seconda. Seconda. E terza. E ora... E ora... E ora aggiungere lo zucchero. E ora è un pezzo migliore. Mischiare. 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 E deve creare una miscela gialla. Mischiare. 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 E ora io metto un po' di olio di girasole. Mischiare. E lo yogurt è naturale. Quindi mettiamo dentro. Bisogna mescolare. Ok. Adesso ho messo il yogurt. Mischiare. Ma un po' col cucchiaio. Per far scendere il yogurt anche qua. Adesso si deve mischiare bene bene. E ora si mettono le zucchine che hanno presso l'acqua. un po'. Come si vede... Ah! Andiamo a tante. Ok. Ho saputo via questo. E si rigira. Allora io devo mettere la farina con dentro un po' di... Un po' di sale. Un po' di... Un po' di polvere lievitata. E... E la cannella. Per la cannella. E ora si miscola. Si miscola. E ora si tasso la farina. Sì! e ora che è tutto amalgamato bene, è ora di metterli dentro questi contenitori di muffin adesso io metto questo qua nella parte inferiore del forno, a 150 gradi per 20 minuti e ora si chiude! ora che sono pronte li devo togliere dal forno per farli raffreddare ok ragazzi, adesso ci sono raffreddati, è ora di mettere un po' di zucchero vero e adesso viene il momento migliore! provarlo! ok ragazzi, sono molto buoni, io ve li consiglio e niente! ciao!